ben trovati ben trovati ad un nuovo video tutorial firmato fabio ambrosi punto it continuiamo a parlare di software e continuiamo a parlare di software gratuiti che chiunque lavora con le immagini deve avere installato sul proprio computer oggi parliamo in particolare di avidemux ok è un software il cui nome è un po tutto un programma vedete qui a destra l'interfaccia un'interfaccia minimale e sulla sinistra qui vedete il sito internet ufficiale che in realtà è anche questo tutto un programma avidemux.org perché è tutto un programma perché se guardiamo il sito internet di questo bellissimo software è veramente minimale ok ci sono tre link sostanzialmente l'ultimo manda al forum di questo software dove troverete la guida informazioni potrete confrontarvi con altri utenti mentre i primi due link sono sostanzialmente dei mirror degli specchi dei siti gemelli in cui è ospitato appunto avidemux cliccando su uno di questi abbiamo la possibilità di avere tutte le informazioni su questo software e soprattutto la pagina dei downloads avidemux è disponibile sia per linux che per windows che per mac ma molti si domanderanno che cos'è avidemux beh ve lo spiego in parole povere avidemux è un bellissimo software che io per perlomeno utilizzo e molti probabilmente utilizzano per tagliare video ok vabbè voi direte sono un montatore video utilizzo premier pro per tagliare dei video certo ma la comodità di avidemux è intanto che è gratuito quindi non dovete pagare assolutamente nulla per la per utilizzarlo nessuna licenza secondo punto è che è velocissimo nell'esportazione perché perché in parole tecniche e mi perdonerete in sostanza non effettua la trans codifica quindi non va a ricomprimere il file semplicemente si limita a prendere un file di input tagliare a seconda delle linee dell'out che voi avete indicato ed esportare il file tagliato punto quindi non si possono fare grandi montaggi non è un software di montaggio video un software che io trovo molto utile se per esempio ho l'esigenza di prendere una clip lunga e far estrabolarne un pezzettino facciamo un esempio qui ho il teaser di anomalie l'italia occulta se non sapete cos'è anomalie l'italia occulta io vi consiglio di andare a visitare la pagina facebook anomalie l'italia occulta o la pagina youtube anomalie l'italia occulta c'è anche la pagina instagram c'è il sito internet www.anomalie l'italia occulta punto it insomma andate a dare un'occhiata perché è un progetto carino immaginate di avere questo file tra le mani dura circa 3 minuti e 18 secondi bello ok io però non voglio tre minuti di video ne voglio un po di meno per esempio ne voglio due minuti e trenta e che cosa facciamo noi prendiamo il video e lo trasciniamo dentro davide mux avide mux lo mangia ok lo ingesta detta in maniera un po forse non correttissima però comunque il video viene portato dentro al software eccolo qui e noi possiamo tranquillamente scorrerlo e inserire il nostro in e il nostro out per esempio inseriamo un in clicchiamo su questo bottoncino inseriamo un out prendo un frammento molto lungo per farvi vedere quanto è veloce nel fare l'export questo software ok inserisco l'out in basso a destra ho le informazioni sul frammento di video che ho estrapolato quindi ho preso il video da 30 secondi fino a 3 minuti e 09 secondi per un totale di ben due minuti e 38 secondi wow direte voi beh voi direte per esportare due minuti e 38 secondi di file impiegherò circa due minuti un minuto e mezzo no perché avide mux non effettua la trascodifica quindi prende il video taglia e lo esporta qui sulla colonia di destra troverete tutte le informazioni sull'operato di avide mux facciamo un po di pulizia ed ecco qua forse ho ingrandito anche un pochino troppo perfetto avide mux ci permette di impostare un un codec di output ok e sì probabilmente se io vado a convertire un faccio un esempio un mpeg in un h264 l'export non sarà immediato perché in quel caso dovrà sarà effettuata una trascodifica ma se io lascio tutto così com'è copy quindi utilizzo lo stesso codec che è utilizzato per il video originale per il video di output e per l'audio la stessa cosa posso cambiare formato ma lascio tutto così com'è quindi lascio copy copy in basso scelgo un contenitore per esempio voglio esportare questo video come mp4 ok non tocco nient'altro lascio tutto così com'è cosa fa da fare vado a cliccare su salva olè scelgo la posizione nel mio hard disk dove voglio andare ad esportare il il file video per esempio file di prova non scrivete mai i nomi dei file con gli spazi utilizzate sempre gli underscore come in questo caso o i trattini è una raccomandazione importante che mi sento di fare comunque clicco su salva e guardate in due minuti e trenta secondi in quanto tempo vengono esportati fine fatto e voi direte ho cominciato fatto 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 ho esportato due minuti e trenta secondi in nemmeno un minuto praticamente ok questa è la potenza di avidemux è la comodità di avidemux ecco il video che ho esportato file di prova eccolo qui e come potete vedere è stato preso il video di in ed è stato tirato fuori un file di out in pochissimi secondi prima di salutarci vi e di salutarci voglio farvi notare una funzione bellissima che ha questo software la possibilità di rintracciare i frame neri perché è utile perché se avete un video suddiviso in capitoli capitoli separati l'uno dall'altro da del nero cliccando su questo bottoncino qui mi sembra no su questo bottoncino qui eccolo qui avidemux analizza i frame e individua subito quelli neri quindi quelli che probabilmente sono la fine di un capitolo o l'inizio di un altro capitolo mi fermo qui www.fabbiambrosi.it cercatemi sul mio sito internet cercatemi su facebook su instagram registratevi a questo canale youtube se vi fa piacere ovviamente mettete un like e condividete queste clip video con i vostri amici grazie 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 al prossimo video tutorial ciao ciao